Ehi! Come stai? Una bella domanda questa, no? Una domanda la quale spesso rispondiamo ad inerzia. Come stai? Tutto bene, tu? Come stai? Non c'è male. Come stai? Ma dai, tiriamo avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Come stai? Anche la domanda che più ci facciamo in generale è la prima cosa che chiedi a una persona quando la incontri. Ehi, ciao, come stai? Da quanto tempo? Ma quante volte realmente rispondiamo con la nostra verità? Su come stiamo? Personalmente, quasi mai. Dire come stiamo a volte ci rende vulnerabili, no? Ma io voglio che tu mi dica, ora, in questo momento, come stai? Senza frasi fatte? Senza paura di essere giudicato? O senza paura di essere vulnerabile? Perché non lo sei? Ok, quindi, la mia domanda è questa. Come stai? So che se sei qui è perché molto probabilmente stai passando un periodo, no? Molto probabilmente c'è qualcosa che ti turba, che ti tormenta, magari sei triste, magari sei dispiaciuto, magari sei deloso, arrabbiato, magari demotivato, qualsiasi cosa. Quindi, sappi che oggi cercheremo di darti qualche momento di tranquillità e parla al plurale perché non posso fare tutto il lavoro io, parte del lavoro, aspetto anche a te. Ma sono sicura che ti metterai di impegno per stare meglio perché dobbiamo, ce lo dobbiamo. Io voglio che tu sappia che questo è un posto sicuro, è un posto in cui sei libero di poter essere ciò che sei, di poter mostrare le tue emozioni che siano belle o brutte, positive o negative, felici o tristi, perché siamo umani e non siamo solo sorrisi e cioccolatini, diciamo. Mi è venuta in mente ora la frase del film Forrest Gump, non so se sei presente. Una delle frasi più celebre, se non la più celebre, di questo film è La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa ci trovi dentro o qualcosa del genere. Ed effettivamente è così. La vita a volte ti riserva delle sorprese molto positive, a volte te le pugnalate, ma ciò che è sicuro oggi non è sicuro domani. E questo per dirti che se oggi sei triste, se oggi pensi di non poter assolutamente combinare niente, di non avere un posto, se pensi di non poterti più evitare di nessuno e cose simili, E quindi, beh, ecco, domani potresti essere smentito, la vita potrebbe sorprenderti con un buonissimo cioccolatino. Non voglio fare troppo uso di metafori e cose del genere, ma quando si dice che la vita è una montagna rossa, è vero. Ci sono le discese e fanno paura, molto, 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 molto paura. A volte ti tolgono il fiato, a volte ti fanno urlare, ma ci sono anche le salite in cui ti godi il panorama, in cui sei mezz'aria. E credolo di quello che ti sta accadendo. Quindi, voglio che tu sappia e che ti ripeta che ciò che sta accadendo oggi, ciò che stai passando, non durerà per sempre. Non durerà per sempre, prima o poi, domani, dopo domani, fra una settimana, fra due mesi, fra un anno. Io ora voglio che tu vada a concentrarti su quella che è la causa del tuo malessere. Voglio che tu vada a concentrarti su questa situazione. Voglio che tu vada a capire effettivamente cosa ha provocato in te questa situazione. cosa ha provocato in te queste emozioni negative. Pensaci con tutto te stesso. Pensaci, 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 pensaci esistentemente e cerca di capire se questo fattore scatenante è qualcosa che è nelle tue mani, qualcosa che puoi modificare in un qualche modo, o qualcosa che purtroppo è esterno a te, qualcosa che è lì e basta, qualcosa che ti fissa, ma che non hai la capacità di mandare via per una cosa o per un'altra. Beh, ecco, in entrambi i casi puoi uscirne vincente se il fattore scatenante delle tue emozioni è nelle tue mani è qualcosa che puoi cambiare. Mettiamo caso, non ti trovi bene nell'ufficio in cui lavori, beh, ecco, so che a volte è difficile, ma puoi dire, no, posso cambiare e non pensare, no, non ci saranno altre opportunità per me, non ci saranno. Sono altre strade, io posso seguire solo questa, perché molto spesso questo ci vieta di essere felice, questa nostra paura di staccarci dalla nostra zona di comfort ci impedisce di vivere. Non la senti mai questa sensazione, come se fossi ancorato in un'area che, diciamo, non è nera, ma non è neanche bianca, non è felice, ma non è neanche triste. Sei lì, perché ormai sono abituato a stare lì. Però chi lo sa, magari spostandoti, anche di qualche centimetro, potresti trovare un'altra via, un'altra strada, altre opportunità che magari ti fanno stare meglio. Un altro esempio, magari pensi di non essere in grado di fare una determinata cosa. Puoi smentirti, magari oggi non sei in grado, semplicemente perché non l'hai mai fatta, o perché non ci hai dedicato abbastanza tempo. Prova, 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 continua a insistere, e magari un giorno riuscirai. Se invece ciò che ti provoca amare a essere, non è nelle tue mani, semplicemente la soluzione è accettarlo. A volte, ciò che ci fa stare male, non può essere modificato, è normale. Viviamo in un mondo in cui tutto è connesso, la mia vita è connessa con la tua vita, con la vita di qualcun altro. È connesso con la società, è connesso con il periodo storico in cui viviamo, l'area geografica in cui viviamo. E tutta questa connessione porta con sé il fatto che i fattori che non sono nelle nostre mani possono ovviamente influire su di noi. E se effettivamente e logicamente non possiamo farci niente, beh l'unica soluzione che ci rimane è accettarlo. Accettare che non è nel nostro potere, non è nelle nostre mani. A volte è difficile accettare tutto ciò, a volte è complicato, complesso, ma prima o poi accadrà e sono sicura che ci riuscirai. Sono sicura che ci riuscirai. Sapi che tutto questo, tutto questo, tutto questo finirà? Ora voglio che tocchi dagli occhi e vado a pensare invece a qualcosa che ti fa stare bene. Una persona, un luogo, un oggetto, un ricordo, una canzone, un'immagine, qualsiasi cosa. E non dirmi non c'è nulla perché sono sicura che se scavi, 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 troverai qualcosa sicuramente. Io ad esempio ho sempre con me due anelli, questo e questo, e uno era della mia nonna. E ogni volta che li vedo mi rassicurano, mi fanno sentire protetta, mi fanno sentire amata e mi calmano. Sono sicura che anche tu hai un qualcosa, un luogo, un momento che riesce a darti questo effetto, a farti questo effetto. E sicura se non fosse, forse può contare poco, ma sappi che ci sono qua io, che io sono qui per te. E per dirti che anche se è difficile, anche se tutto ti sembra impossibile da superare, ce la farai, ce la farai io, credo in te. Io credo in te, e ci credo veramente, non te lo dico tanto per dirtelo. Ma a volte la parola degli altri non serve, a volte serve l'impulso da noi stessi, e quindi devi fare lo stesso anche tu. Devi credere in te stesso, nelle tue abilità, nelle tue capacità, nel tuo essere, nella tua sensibilità. Credo in te, se ti va, se ti può forzare bene, prova a ripendertelo nella testa, ma non solo ora, ma anche quando ti accade qualcosa di negativo, qualcosa che magari ti fa star male. Prova ad andare in bagno, a guardarti allo specchio, a ripeterti, frasi che possono farti star meglio. So che può essere vista in maniera un po' strana, ma a volte mi accade, a volte lo faccio. E non ti nego che mi sembra una stupida, se mi sto da fuori, ma a volte dirmi queste parole mi fa stare meglio. Altre volte mi fa stare meglio, mi fa arrabbiare con me stessa, perché mi dico, ti eri già ripromessa di non fare più determinate scelte, di non essere più in un certo modo, perché ci sei ricaduto, eccetera. Ma va bene così, come ti ho già detto, siamo umani e tutto questo, tutto questo, tutto questo è normale, è normale, è normale, è normale. Io voglio a tu, ti diamo la possibilità di essere felice, di essere sereno, di essere tranquillo. Il punto è che io ovviamente non so cosa possa renderti felice, sereno, di essere tranquillo e quindi sei tu, tu e solo tu. È un potere che è nelle tue mani, amati, veramente, con i tuoi difetti, con i tuoi bregi. Se i tuoi difetti non ti piacciono, cerchi di migliorarli, se non riesci a migliorarli, vabbè, dà lo stesso. Ma datti l'opportunità, la possibilità di essere felice, perché te lo meriti. Ognuno si merita di essere felice, di essere tranquillo, sereno, ognuno. E tu, ancora di più. Mi riprometti di che farai di tutto, per poter essere felice, tutto, 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 tutto. Anche se magari hai paura, anche se magari non sei sicuro che una determinata scelta possa realmente portarti ad essere felice. Però tu promettitelo. Dovrai vivere con te stesso, per il resto della tua vita. E quindi devi essere la persona che più ami in questo mondo. E quindi cerca di dedicarti a te. Di mettere a te stesso, prima di tutto, prima di tutti. Provaci, 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 provaci con tutto te stesso. Promettimelo, promettimi che ci proverai, perlomeno. Non ti chiedo di riuscirci, perché sono la prima a riuscirci. Però, perlomeno, promettimi che ogni mattina, quando ti alzerai dal letto, ti dirai che oggi io sono al primo posto, oggi mi metto al primo posto e inizierai con un'azione che pensi possa farti star meglio. Magari, magari, un po' di skin care, per dirti, ah dai, iniziamo a curarci di noi stessi. A volte, a volte, bastanti piccoli gesti che innescano delle razioni a catena. Magari parti da qualcosa di piccolo, piccolo, piccolo. Come può essere questo? Per poi continuare con qualcos'altro, e qualcos'altro, e qualcos'altro, e qualcos'altro ancora. Magari sai che la natura ti fa stare bene, però vivi in città, e quindi questo distacco un po' magari lo senti. Promettiti quindi di andare ogni weekend al mare, o in montagna, collina, o al parco, qualsiasi posto che abbia un po' di verde. Puoi anche decidere di stilare una lista di cose per le quali sei grato ogni giorno, ogni mattina, ogni sera, a seconda del caso. Solitamente si fa la sera, così da andare a dormire contenti. Prendi una penna, un foglio, e scrivi oggi sono grato perché. Scrivi qualcosa che ti ha fatto sentire per un attimo, un secondo, felice. D'altronde, la felicità è qualcosa di attimi, no? È qualcosa che sfugge all'uomo. Qualcosa che cerchiamo sempre, che magari arriviamo a toccare con un dito, ma poi ci scappa via. Ecco, scrivi qualcosa che ti ha reso felice. Una persona che magari ti ha fatto un complimento, o semplicemente che ha fatto un gesto carino nei tuoi confronti. Un collega ti ha portato il caffè, non è qualcosa di scontato. Tua sorella ti ha preparato la cena, non è qualcosa di scontato. Un passante ti ha sorriso mentre camminavi, non è qualcosa di scontato. Spesso nella vita, e io per prima, diamo tutto per scontato, ogni cosa ci è dovuta. E questo poi non ci fa apprezzare i gesti delle persone che sono fatti con amore. E quindi questo è un esercizio che forse può tornarti utile. E non preoccuparti, non devi dire 27.000 cose. Bastano anche due, tre cose che ti ha reso felice una cosa. Basta che pensi e fissi con la penna ciò che è successo. Provaci, fammi sapere se serve qualcosa, se ti rende più positivo nel guardare quella che è la tua realtà. Ora, che ti ho detto tutte queste parole, non so se si hanno servito a qualcosa. Se ti abbiano impastiglito, se ti abbiano tranquillizzato, non lo so. Perché ognuno è diverso. Ognuno reagisce in maniera diversa, no? Ma in questo momento voglio che tu vada a focalizzarti su tutto ciò che ti ha fatto star male. Tutto, 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 tutto ciò che ricordi in questo momento. Voglio che tu vada a focalizzarti su tutto ciò che ti ha fatto star male. Non voglio più pensarci. Via, via, non mi interessa tutto questo. Non mi interessa, sono più forte. Sono più forte. Riuscirò a superarla. Questa cosa è una piccolezza, non mi interessa. Questa cosa non posso modificarne così l'accetto. Questo mi fa stare un po' male. Magari posso provare a parlarne con la persona interessata. E così via, voglio che tu vada a focalizzarti su tutto questo. E vada a dire basta. Non voglio più stare male per queste cose, per queste parole che mi sono state dette, per queste parole che mi dico, per questi fatti, per questa situazione, per queste persone. eccetera. Fallo con tutta la tua forza di volontà. Ovviamente prima o poi qualcosa tornerà, ma ogni qualvolta ti venga a toccare uno di questi pensieri. Ricordati queste parole. Ricordati questo video. e di a te stesso basta. No. Non voglio più sentire questo discorso. Non voglio più sentire queste parole. Ok. Ricordatelo. Ricordati. che non meriti di star male. Non meriti di star male. E che tu hai tutto il potere. per riuscire a risalire, anche quando pensi di aver toccato il fondo, di non riuscire più a respirare. Quando pensi di annegare nelle tue paure, nelle tue preoccupazioni. Ricordati che con una piccola spinta potrai tornare a galla, potrai tornare a respirare. e chissà, magari potrebbe piacerti notare. Spero che tu stia meglio ora. Spero che le mie parole ti abbiano aiutato. Sì, così non fosse, mi dispiace. Veramente. Ma troverai sicuramente un modo o un altro che riuscirà a farti star meglio. Ora, chiudi gli occhi. e prova a dormire. Addormentati con positività. Addormentati pensando a momenti di gioia che hai vissuto. E ricordati di darti una possibilità. di essere felice. Buonanotte. 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 Grazie.